Sono arrivati gli amici del mattino, la novità pavesi per la prima colazione. Da qui comincia la nuova storia di un biscotto, un giusto equilibrio di bontà e nutrimento nato dall'esperienza pavesi. Gli amici del mattino, i deliziosi amici per essere felici come in un bel giardino. Gli Pavesi, esperienza antica, bontà moderna.